Le prese interessanti sono emerse nelle gare che hanno aperto la quarta giornata della Serie A. L'Inter è in fuga, i nerazzurri di Inzaghi si esaltano e nel derby con i cugini del Milan finisce 5-1, quasi una partita a tennis. Una debacle imprevista per Pioli che dovrà rivedere tante cose. Doppietta di Mkhitaryan, poi a segno Cialanoglu e Fratesi, inutile gol rosso-nero di Leao con la frittata già servita. La Juve insegue, parziale secondo posto con il successo su da Lazio, doppietta di Vlaovic e trezza di Chiesa. I biancocelesti si consolano con la rete di Luisa Alberto. Che il Napoli non stia vivendo un bell'inizio di stagione lo si era capito, ma la rimonta contro il Genoa, avanti di due reti con Mbani e Retechi, arriva dopo che i cambi di Garcia hanno avuto l'effetto sperato. Jack Rasvalori 1-2 e il pari di Politano 2-2. L'ottica delle partite domenicali, attenzione per le sfide di Atalanta e Roma. Bergamaschi ospiti della Fiorentina, Giallorossi all'Olimpico con l'Empoli, mentre il Lecce va a Monza. L'anno scorso i Salentini vissono 1-0 con il gol Salvezza all'ultimo minuto su rigore e vogliono confermarsi come splendida sorpresa. Il quadro sarà completato da Cagliari Udinese e Frosinone Sassuolo.